7.902 casi su 43.295 tamponi processati, tasso di positività al 18,25%. Questo è il dato emerso dal bollettino epidemiologico del 22 gennaio. I casi emersi dal report precedente erano stati 8.423 su 72.066 test con positività all'11,68%. Il totale dei contagi da coronavirus emersi in Puglia sale a 534.537, di cui 143.357 attualmente positivi, 384.066 guariti e 7.114 deceduti. 11 sono i decessi registrati nelle ultime 24 ore, 10.139 sono i casi attivi in più rispetto a ieri, 3.871 sono i nuovi guariti. Calano da 712 a 699, i pazienti ricoverati in area non critica passano da 67 a 69 le terapie intensive. Su scala provinciale il dato più alto di giornata è rappresentato dai 2.461 nuovi casi emersi nel Barese, 185.827 il totale dei pazienti registrati nell'area del capoluogo di regione da inizio pandemia. 1.475 sono i nuovi positivi emersi nell'Eccese, 80.291 il totale della zona salentina. 1.317 sono i nuovi contagi registrati nel Foggiano, un dato che porta il totale a 83.372. 74.510 invece il dato complessivo del Tarantino, zona nella quale i nuovi casi odierni sono 1.024. Numeri più bassi nella Bat e nel Brindisino, zone nelle quali sono emersi rispettivamente 863-660 nuovi positivi. 54.875 il totale della provincia di Barletta-Andreatrani, 50.202 quello della zona messabica. A chiudere il quadro 70 residenti fuori regione e 32 casi dalla provenienza non nota. 7.194.602 il totale dei tamponi processati in Poglia da inizio pandemia.